Matinella, ventesima edizione della festa delle bontà di Bufala. Noi siamo proprio con gli organizzatori, con il presidente dell'associazione Matinel Prom, che si è fatto anche promotore di questo evento, Luigi Cantalupo. Un evento che mette al centro un prodotto d'eccellenza proprio di questo territorio. Io invito tutti a partecipare a questa manifestazione, perché è una manifestazione abbastanza grande. E' completa di tutto, dalla mozzarella, ricotta, caciocavallo, carne di Bufala, sia braciola, sia di arrusti, tutto quello che si può fare con il prodotto bufalino. Gerardo Picilli dell'associazione Matinel Prom, festa delle bontà di Bufala, che giunge oramai al suo ventesimo compleanno. Eh sì, è una manifestazione longeva, forse la più longeva della provincia di Salerno. Sono vent'anni che la Matinel Prom, con il presidente Luigi Cantalupo e tutti i soci, organizzano questo evento che è un evento socio-gastronomico, perché unisce la cultura tradizionale con l'arte culinaria del territorio. Prodotti tipici della filiera bufalina che vanno, come diceva bene il presidente, dalla mozzarella fino alla carne di Bufala. Tanti piatti d'eccellenza legati proprio a questo territorio e al comparto bufalino che si potranno trovare a Matinel fino al 14 agosto. Sì, la filiera è completa della bufala, della mozzarella. Si parte dalla ricotta, dai bocconcini, dal formaggio di bufala, fino ad arrivare alla carne, l'eccellenza della carne bufalina per le sue proprietà organolettiche. L'amministrazione, quindi sono vent'anni che è sul territorio, è un'amministrazione che dal punto di vista culturale unisce con i piatti della tradizione. E dal punto di vista sociale è importante perché una parte del ricavato va per opere sociali. Ricordiamo il rifacimento della facciata della chiesa di Sant'Anna l'anno scorso, la canonica sempre della parrocchia di Sant'Anna, contributi per le scuole, acquisto di materiali didattici, la pitturazione delle scuole, quindi è una amministrazione che è completa. Chi viene qui mangia prodotti d'eccellenza a chilometro zero, buoni a prezzo modico. 13 euro, mangiare primo, secondo, contorno, antipasto, frutta, bibite, poi vedersi lo spettacolo e sapere che aver contribuito anche a opere sociali è una soddisfazione che tutti quanti devono provare. Quindi invito tutti quanti a venire qui fino al 14 agosto a Martinella di Albanella, in piazza Marti del Lavoro, ad assistere e partecipare vivamente a questa manifestazione. Grazie a tutti.